Sono molto limitati i rischi per la salute e per l'ambiente causati dalla dispersione di amianto, dopo che i ladri nella notte tra venerdì e sabato scorsi si erano introdotti all'interno della piscina Dini-Salvalai, rompendo a picconate il muro di amianto della palestra. Da qui poi si sono sollevate le preoccupazioni degli utenti e dei grillini, che ieri hanno presentato un'interrogazione in Consiglio Comunale, per chiarire se quanto accaduto possa provocare dei seri rischi per chi frequenta la struttura. Ieri intanto è stato effettuato un sopralluogo. Erano presenti il Comune di Fano, in quanto a un contratto di comodato d'uso dell'edificio, la provincia, che è la proprietaria dell'immobile, l'Asur, il tecnico dell'ufficio ambiente, e quello che si occupa di amianto, oltre alla sport management e ai gestori della palestra. Si è ritenuto che è talmente circoscritta la zona di poter sigillare la porta della palestra e dividere i due ambienti e continuare il funzionamento della piscina. A dar forza a questa decisione c'è anche una nota dell'Asur, che visto il punto dove è stato realizzato il fatto, e anche il fatto che ci fosse un armadio molto pesante, per cui i ladri hanno dovuto scavare con il piccone, e il materiale è stato tutto depositato all'esterno, e all'interno ci è finito veramente pochissimo materiale, si è ritenuto quindi di andare avanti su questa strada. Per quanto riguarda la palestra invece? La palestra è più problematica la situazione perché è a diretto contatto, faremo gli esami ARPAM tramite l'ARPAM in giornata, e ci vorrà forse qualche giorno, e non ci sentiamo assolutamente di riaprire l'attività, e soprattutto secondo me anche fin quando non smaltiamo il materiale. L'esito degli esami quando si potrà avere? Penso che un campione di amianto è già stato portato all'ARPAM, e su quello si stanno lavorando, poi c'è parallelamente un campione di aria, di eventuale dispersione in palestra, e di eventuale precauzionale in piscina, e per quello penso ci vogliono due giorni.